Ciao Danilo, bentornato. Grazie. Allora, ti chiedo subito come sono andate le vacanze, se ci vuoi raccontare qualcosa, anche perché ti abbiamo seguito sui social ed eri con Roberto Gagliardini. Sì, direi benissimo, a parte la presenza di Gagliardini, no scherzo, ci siamo divertiti molto, è stata un'estate lunga dove ci siamo potuti rilassare con la famiglia, siamo divertiti e all'occorrenza ovviamente ci siamo allenati insieme a Roberto per essere pronti per questo ritiro. Sì, anche perché questa vacanza, questa pausa, di fatto vi siete riposati per la prima volta dopo due stagioni, perché sono state molto intense, è finita una, è cominciata l'altra. Quanto è importante anche secondo te da professionista arrivare con corpo, ma anche mente un po' più riposata? Beh, è fondamentale. Come hai detto tu, le ultime due stagioni per ovvi motivi non ho fatto vacanze quindi dopo due stagioni arrivare e fare circa un mese di vacanze è stato fondamentale per rigenerare un pochettino il corpo e la mente. Ti aiuta sicuramente a rilassarti e a partire più carichi di prima. Come stanno andando questi primi giorni di ritiro? Bene, molto bene. Il gruppo è voglioso, anche se mancano tanti giocatori. Ne approfitto per fare un grandissimo bocca al lupo ai nostri campioni Nico e Basto e grandissimi complimenti anche all'Audi che stanotte ha vinto una meritatissima Coppa. Sono passati pochi giorni, è vero però appunto tu sei all'Inter da tanto tempo. Volevo chiederti le prime impressioni che hai avuto su un nuovo allenatore, Simone Inzaghi, il staff. Staff competente, ha voglia di lavorare, sono molto sul pezzo. Fin dall'inizio abbiamo visto la loro capabilità, poi anche ascoltando le interviste che hanno fatto vogliono di sicuro far bella figura e tenere in alto quello che è la storia dell'Inter. Parte la tua nona stagione all'Inter, hai rinnovato da poco. Danilo, cosa vuol dire per te indossare ancora una volta questa maglia? È un motivo di orgoglio ogni volta che si indossa questa maglia, soprattutto poi dopo nove stagioni, però ogni volta che la indosso e che il giocatore la indossa bisogna sempre dimostrare di meritarla. È quello che cerco io di fare da ormai da nove stagioni e se dopo nove stagioni ancora, come hai detto tu, ho firmato il contratto, significa che qualcosa di buono l'ho fatto e che sto meritando di indossarla. Allora, c'è una statistica interessante che ti farà piacere perché sei l'unico giocatore della Rosa attuale ad aver segnato almeno due gol nelle ultime sei stagioni. Tradotto, dai sempre il tuo contributo. Sì, do sempre il mio contributo, però non bisogna mai guardare al passato. Il passato ormai è soltanto un ricordo che sia positivo o negativo. Bisogna sempre far meglio e confermarsi sulle dotiche che uno ha e come ho detto prima, per meritarsi questa maglia. E allora guardiamo avanti. I tuoi obiettivi per la prossima stagione? Obiettivi per la prossima stagione sono sicuramente far bene il campionato, cercare di mantenere le posizioni di alta classifica, lottare per passare i giorni di Champions e arrivare fino in fondo in Coppa Italia. Grazie. Grazie a voi. Grazie.